Era la notte del 21 novembre del 1996, quando la Madonna del Rosario e l'annunciazione di Guglielmo Caccia, da poco restaurati, furono strappate dalla sacristia della chiesa di Borgo San Martino da un gruppo di ladri. Da quel giorno si è pensato al peggio. Alcuni speravano in un ritrovo, altri avevano già perso le speranze. La notizia fece subito il giro dell'Italia. Solo in quell'anno, infatti, vennero schedate tutte le parrocchie del paese per il loro ritrovamento. E dopo 24 anni di esilio, le due palle d'altare del Moncalvo possono finalmente tornare a casa, recuperati in un appartamento di Valenza dai carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Torino. Colonello, come si è svolta l'operazione per il recupero delle due opere? L'operazione è nata a seguito di una segnalazione di un privato cittadino che aveva rinvenuto le opere all'interno di un immobile che aveva acquistato. E che diligentemente aveva sottoposto alla perizia di esperti nel settore, i quali gli avevano rivelato che nel nostro sistema, nella nostra applicazione dell'arma dei carabinieri, risultava rubato alla chiesa nel 1996. Il fatto è che quest'opera era custodita all'interno di una soffitta ed era stata depositata lì da tantissimo tempo. Tempo in cui era impossibile procedere oltre nell'attività investigative per intervenuta prescrizione e per il decesso di tutte le persone che erano coinvolte. Appartenenti ai primi 30 anni di vita dell'artista, considerato il maggiore esponente della controriforma piemontese, le due opere dovranno subire un intervento di restaurazione del valore di 20.000 euro. Una somma che la diocesi di Casale Monferrato sta già pensando di raccogliere mediante bandi e manifestazioni in programma per quest'estate. Ogni anno per il patrimonio artistico collaborano in tutto 300 operatori, aiutati anche da un'app creata appositamente dai carabinieri per una maggiore tutela del tesoro artistico italiano. Si chiama ITPC, scaricabile sul cellulare, che permette tramite una foto di verificare la provenienza illecita di un'opera d'arte e la compara con una selezione della banca dati dei beni sottratti. Siamo molto grati al nucleo tutela dei carabinieri che ha seguito un po' tutta l'operazione da quando sono state ritrovate. Certamente, come ho ricordato anche prima, le nostre chiese sono piene di opere d'arte, quindi questo deve creare in noi una maggior consapevolezza anche nella conservazione e nella tutela di queste opere d'arte. Grazie Grazie Grazie